Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, grazie per essere qui con noi Oggi questo webinar gratuito dal tema giocare con la lettura e le narrazioni La lettura come strumento nell'esperienza quotidiana del bambino Stiamo qui con Claudio Centi di Federica Editori che ringrazio E con due suoi autori che presenteranno dei testi proprio dedicati a questa tematica Quindi lascio a Claudio Centi la parola e ovviamente auguro a tutti un buon incontro Grazie Francesca, grazie a tutti voi partecipanti e grazie come sempre a Scuola Oltre Perché queste sono occasioni per noi davvero molto importanti Oggi vi faccio parlare con due dei nostri autori più cari, Cristina e Vieri Adesso ve li presenterò Con Cristina nasce la collana Silenziosamente che molti di voi conosceranno Perché appunto sono i nostri albi illustrati e quindi uno dei nostri fondamenti principali Della Federica Editori e nasce proprio grazie a lei e con Cristina E con Vieri abbiamo sperimentato una nuova formula che appunto esce un po' dalle nostre collane Ed è un fuori collana che siamo molto orgogliosi di aver realizzato insieme a lui e insieme a Marco Monelli Adesso ve ne parlerà Vieri Io vi faccio vedere solo velocemente qualche copertina dei libri di cui parleremo oggi Se non solo qualcuna, poi ognuno dei miei autori ve ne parlerà in maniera più approfondita E come sempre insomma siamo a vostra disposizione anche per tutte le domande che riguardano la nostra casa editrice Federica Editori e quindi vi aspetto alla fine per un saluto e per condividere domande, spunti, riflessioni e anche informazioni se ne avete bisogno Grazie a tutti, passo subito la parola a Cristina così ci immergiamo in questo nuovo webinar E grazie Scuola Oltre sempre Grazie Laura, grazie anch'io voglio unirmi a questi ringraziamenti per questa ospitalità e collaborazione con Scuola Oltre Grazie anche a tutti voi e a tutti voi che siete collegati per ascoltare i nostri interventi Spero che siano di vostro interesse e che possano davvero darvi anche dei suggerimenti per le vostre attività Credo che molti di voi saranno docenti e quindi credo che i nostri albi possano essere davvero d'aiuto nella vita di ogni giorno Non proprio lavorare con la scuola Allora, io partirei condividendo alcuni materiali che avevo preparato Vediamo, eccoci qua, eccolo qua Così, ecco, vorrei un feedback che state vedendo Se si vede bene Vediamo Sì, Cristina Sì, sentazione Ecco, ora lo vedete bello, grande Ecco, allora, questi sono, diciamo, i tre albi Su cui oggi, diciamo, ne vediamo uno in particolare che sarà ora non posso Però ve li ho messi perché volevo fare, diciamo, con voi uno spunto Visto che si parla di giocare con la lettura Proprio con degli albi che trattano dei temi particolari Il primo della collana, che c'è sempre un posto speciale, questo che vedete a sinistra È un testo che è incentrato sulla meraviglia Quindi sull'importanza e lo stupore dello sguardo Nell'osservare la natura che ci circonda, il mondo che ci circonda Quindi sono illustrazioni a doppia pagina E anche molto immersive E ricordano, diciamo, degli aspetti di sensorialità del bambino E anche il legame con le emozioni Quindi ogni pagina poi è un libro cosiddetto metacognitivo Per cui il bambino può fare delle connessioni con la sua esperienza personale Ma anche ritrovare delle emozioni e delle sensazioni Che vediamo nella sua vita Nel libro, anche negli altri, ci sono in fondo degli apparati Con dei giochi che potete fare con loro In particolare, questo sulla meraviglia, ci sono dei giochi con i paesaggi sonori Molto belli, proprio per l'ascolto E da lì, diciamo, dei paesaggi dell'anno Quindi dei legami con le sensazioni provate E le emozioni provate L'altro libro, velocissimamente di cui vi parlo È Parole morbide, parole ruvide Il terzo libro, diciamo, della collana Che è incentrato sulle parole E questo nasce dall'idea Che i bambini a volte Conoscono magari delle parole Ma non sanno utilizzarle È il come si usano le parole Che fa la differenza, no? A volte Quindi il ritmo Il ritmo narrativo Il ritmo emotivo Con cui si esprime la parola Diventa importante per comunicare emozioni Ed ascoltare l'emozione degli altri Quindi il libro, in un viaggio, diciamo Che va dentro sempre l'illustrazione Per l'infanzia Con dei paesaggi anche molto significativi Molto belli Ci sono questi biglietti Che appaiono con le emozioni E questi vengono In ogni pagina si esplora Una emozione diversa E gli si dà anche una rappresentazione Quindi questa è appunto Il ferire le parole aguzze e pungenti Che possono ferire e far male E in fondo a questo testo Si trova poi una Anche qui sempre questo apparato Che aiuta il bambino A capire, per esempio Queste sono due filastrocche A capire la rabbia Cosa succede Quando ci si arrabbia Al nostro corpo Quindi questi libri Hanno proprio lo scopo Di produrre questa consapevolezza Nei bambini Delle emozioni E anche dell'uso corretto Più che corretto Diciamo L'uso adeguato L'appropriazione Conoscere lo spessore La profondità Il tono della voce Con cui si dicono le cose E ci si rivolge agli altri Oppure le parole Che gli altri dicono a noi Tutti e due questi testi Sono stati segnalati Da Unicef Come consigli di lettura Nel fascicolo Risorse Ide e materiali Rivolte a tutte le scuole D'Italia E voi potete trovare Anche dei lavori Che io ho fatto Per Unicef Come consulente In un progetto Che ho sviluppato per loro E che potete scaricare Gratuitamente Dal sito Unicef Appunto www.unicef.it Che è Leggere i ditti Dell'infante Della scienza Attraverso immagini E parole Quel riquadretto Che vedete Nell'immagine Che potete poi Recuperare Ecco L'incontro di oggi È più invece Incentrato Su questo libro Che è il secondo Che io ho scritto Di questa collana A cui io tengo molto Perché io di professione Faccio anche la bibliotecaria E mi occupo Da tanti anni Di pedagogia della lettura Con insegnanti Con i bambini E allora ho pensato Di scrivere Insieme alla casa editrice Un libro Che aiutasse I bambini A invogliare Diciamo i genitori A leggere loro le storie Perché spesso Quando un bambino chiede Mi leggi una storia La risposta è Ora non posso E quindi Prendendo a spunto Proprio questa risposta Dell'adulto Ho scritto Questo libro È chiaro Che la lettura Alta voce In famiglia E si sa Insomma tutti Ormai Gli studi scientifici Su questo Dimostrano ampiamente I benefici Della lettura In età precoce Soprattutto Nei primi Mille giorni di vita 0-6 anni Anche Ma anche Successivamente Quanto è importante Per lo sviluppo emotivo Cognitivo Relazionale Il programma Nati per leggere Che sicuramente Diverse di voi Conoscono Si occupa proprio Di questo Di sviluppare L'importanza Di leggere In famiglia Insieme E quindi I bambini In questa immagine Che vedete Che è messa Nel finale Di questo libro Vedete proprio L'idea Del cerchio Dello stare insieme Intorno a Intorno a una storia Intorno a un libro Dove ognuno Ascolta E interagisce Con le proprie Connessioni Quindi Per cui Un'altra parola Importante Nel processo Di lettura Alta voce È la parola Connessioni Cioè tutte quelle Che il bambino Fa Mentre ascolta Una storia L'indicare Con il ditino L'immagine Individuare Degli agganci Alla propria Esperienza personale Per questo Si gioca Con la lettura E si entra Nella quotidianità Del bambino Perché il bambino Fa dei paragoni E quindi È importante Anche Offrire ai bambini Dei libri Che diano Delle Rappresentazioni Anche Delle famiglie Delle situazioni Equilibrate Quindi Attenti Per esempio Agli stereotipi Di genere Quindi Vedete In questa immagine Come un padre In cucina Possa svolgere La sua attività Diciamo Nella Cosa Mentre Una madre Che può essere Scrittrice Che può essere Una redattrice Una progettista O qualsiasi Altro Lavoro Che il bambino Vuole immaginarsi Ecco Questo vuol dire Nutrire L'immaginario Del bambino E poi Anche L'importanza Nella lettura Alta voce Di dedicare Il tempo La lettura Ad alta voce Condivisa In famiglia Richiede Richiede Tempo E questo è un tempo Preziosissimo E questo è un tempo preziosissimo Perché è il tempo Della relazione È il tempo Dell'abbraccio È il tempo Della riflessione È il tempo Delle emozioni Quindi sono degli spunti Che sono davvero Molto Molto Importanti All'interno Dell'albo Allora poi Voi potrete Insomma Ve lo procurerete Potrete vedere Anche il percorso E tanti aspetti Nelle prime pagine Ci sono anche Dei legami Tra il libro Diciamo Digitale E il libro Cartaceo Quindi come il bambino È abituato Agli schermi E tenta all'inizio Con questo vecchio libro Di aprirlo Come se fosse Un desktop Di un cellulare Di un No Di un apparecchiatura Elettronica Invece Il libro Contiene Una storia Ed è questa La più grande sorpresa E all'interno Di questo L'altro Problemente Che mi interessava Portare All'attenzione Sia dei bambini Ma soprattutto Anche degli adulti Che leggeranno Con i loro bambini Questo libro È il diritto Che è un ambito In cui io Mi sono Impegnata Molto anche Con il chef Il diritto Di leggere Dei bambini Cioè Se è vero Che la lettura Ha tutti questi Grandi benefici Sullo sviluppo E la crescita È anche vero Che occorre garantire Il diritto Di leggere E sappiamo bene Voi lo sapete benissimo Le situazioni familiari A volte Come impediscono Questa Questo sviluppo E quindi Poter avere anche Nelle figure Dei docenti Degli insegnanti Dei punti di riferimento Che possono Davvero diffondere La lettura Come pratica familiare Aiuta Aiuta anche A sviluppare Una genitorialità Responsiva Ultimamente Ultimissime ricerche Hanno mostrato Proprio Una diminuzione Dell'aggressività Dei genitori Verso i figli E anche Dei figli Quando c'è Le pratiche Di lettura Quando ci sono Le pratiche Di lettura In casa E quindi Quello che ho fatto Ho cercato Di fare Una mappa Che Celina Elmi L'illustratrice Molto brava Della casa editrice Ha creato Quindi vedete Guardate che bella Immagine doppia Ora qui ce n'è solo Un pezzettino Voi ne vedete Però In questa bellissima Doppia immagine C'è una mappa Dei luoghi Della cultura Che sono E non solo Quelli della cultura Sono anche Altri luoghi Vari Cari ai bambini Quindi abbiamo Abbiamo la libreria La biblioteca La casa editrice C'è Il cinema Ma anche La pasticceria La pizzeria Tutto quello Che poi anche Un bambino Lo può Piacere Alla fine Tutto questo viaggio Approda A una biblioteca Dove c'è Una bibliotecaria Che è vera Questa bibliotecaria Che vedete È una mia collega Che si è prestata A farsi Diciamo Ritrarre E quindi Arrivano E finalmente Trovano qualcuno Perché questo bambino Chiede a tutti Di leggergli una storia Ma nessuno Gli la legge Fino a che la nonna Lo porta a parco E alla fine Trova questa bibliotecaria E questa situazione Quindi il legame Con la filiera Del libro È un'altra Prassi Importante Educativa Per l'educazione Alla lettura Ecco E Concludo Diciamo Che poi La parte Del libro Racconta Anche tante altre Spunti Che potete avere Perché Alla fine C'è questo momento Finale Di Conclusione Di importanza Di condivisione Della lettura Quella scena Che ho fatto vedere All'inizio Però Concluderei Su questa scena Perché Questa ci fa Riflettere Su un altro punto Che mi interessava Sviluppare L'attenzione Qui Quando io presento Questa immagine Ai bambini E leggo loro Il libro C'era una volta Un posto speciale Dove tutti i sogni Dei bambini Si potevano Avverare Ecco I bambini Cominciano a vedere Questi personaggi E alcuni Di loro Cominciano Si fa un gioco Di riconoscimento Quindi qui si può fare Proprio un gioco Interattivo Di riconoscimento Della storia Vedete Ne potete vedere Alcune Credo Dalla sirenetta Ansel e Gretel Il giro del mondo In 80 giorni Che alcuni Magari ancora Non conoscano La storia Per cui E' anche importante Che l'albo illustrato E i libri Diano delle parole nuove Delle immagini Nuove E per creare La Diciamo Lo schema mentale Quindi lo schema narrativo Che si va a sviluppare Quindi le storie Sviluppano Il pensiero narrativo Occorre che il bambino Abbia Abuso Diciamo Impatto Con le storie Per esempio Vedete quella mela Sopra la testa Si vede della bibliotecaria Appesa Quando chiedo Che cos'è questa Tutti i bambini Mi dicono Biancaneve Quindi Significa Che Le storie Diventano Degli schemi narrativi Degli schemi narrativi Fatte di personaggi Di luoghi Di azioni Di destini E questi schemi narrativi Nel pensiero narrativo Si formano Interagiscono Tra di sé Creano delle connessioni Il bambino Impara A Utilizzarli Quindi Per questo Più si legge In età evolutiva Soprattutto Nelle fasi Precoci Della vita Più si sviluppano Questi schemi narrativi Che Aiuteranno A sviluppare Delle connessioni E quindi Le ultime Ricerche Sono state fatte Un bellissimo libro Storytelling Di Andrea Smorti Che è uscito Nel 2022 Lui dice Che narrare E pensare Quindi Quando narriamo Noi Stiamo anche Pensando I nostri schemi Mentali Si riconfigurano Ogni volta Che aggiungiamo Un pezzettino Di storia È un nostro Se come testo No? Per usare Sempre le sue parole Ci vediamo Come un unico testo Anche voi Anche noi Costruiamo La nostra Autobiografia Ci nutriamo Di questi dettagli Narrativi Che acquisiamo Dalle storie Che abbiamo Intorno a noi Ecco E quindi Ora vi lascio All'intervento Successivo Del mio insomma Amico Insomma collega Vieri Che vi presenterà Appunto I suoi libri Il suo libro Molto molto bello Perché aiuta Proprio La costruzione La costruzione La costruzione La costruzione di elementi Narrativi Che si portano Così Nella quotidianità E aiutano i bambini A comprendere Cose Che altrimenti Sarebbe più Difficile Comprenderlo Ma anche in modo Meno didascalico Grazie Poi Se ci sono domande Io poi Sono qua Buonasera Prendo direttamente La parola io Quindi Ok Perfetto Mi prego Dimmi quando vuoi Ti condivido Condivido Poi già partire Con la prima Grazie mille Buonasera a tutti Io mi chiamo Vieri E sono L'autore Dei mostrini Di tutti i giorni Il libro Che ho scritto E che Marco Monelli Ha illustrato Ringrazio Cristina Per L'aggancio Diciamo Sulla narrazione Che è un fattore Importante Non solo Nella scrittura Ma anche poi Nell'esposizione Quando si va A raccontare Questi Questi libri Queste storie Quando si vanno A condividere Soprattutto Con i bambini Non soltanto Con i bambini Ma Quando si parla Ai bambini Insomma ci vuole Lo sapete Sicuramente Voi siete Docenti Insomma Formatori Ci vuole Di averlo fatto Un po' Ecco Dopo un po' Si scoprono Tante cose Io le ho scoperte Un po' In tante presentazioni Che abbiamo fatto Grazie Insomma Al nostro libro E vi racconto Un po' Di che cosa Si tratta Possiamo Scorrere La slide Francesca Grazie Mosteni Di tutti i giorni È Un libro Che io ho scritto Che vi faccio vedere Anche dal vivo E che poi Magari Riuscirò a leggervi Qualche Qualche parte Qualche strato È un libro Che io ho scritto Nel primo anno Di vita Di mia figlia E diciamo Ho cercato Di valutare Quali fossero I suoi problemi Le piccole sfide Quotidiane I problemi Di tutti i giorni Per questo Sono mosteni Di tutti i giorni La cosa interessante Da valutare È che un po' Tutti I bambini Insomma Anche a diverse Fasi Di età Diverse età Differenti Si confrontano Con questi problemi Io ho cercato Di fare un po' Il punto Della situazione E Ho scritto Delle filastrocche Dei testi in rima Attraverso i quali Racconto Questi mostrini E La lettura Del testo Avviene In maniera Musicale Proprio per il fatto Che ci sono Filastrocche Insomma Rime baciate E quindi È molto divertente Anche Giocare su questa cosa Insieme ai bambini Alle bambine E Tutto quanto È per favorire La lettura Ad altavoce Agganciandosi un po' A quello che diceva Anche Cristina Quindi Leggere ad altavoce Leggere bambini È utile Per il loro sviluppo È utile Per la narrazione Come si diceva prima Ogni mostrino Ha una Particolare Sfera di influenza Diciamo così Ogni mostrino Ha un Suo campo D'azione E Durante questo libro Nelle storie di questo libro Si raccontano Le varie peripezie I vari Piccoli dispetti Diciamo Più maratelle O piccole difficoltà Che mostrini portano Dicevo Ve ne leggo qualcuno E Vi spiego un attimo La struttura Delle filastrocche È di solito Divisa in tre parti Nella prima parte Si spiega Il mostrino Nella seconda Si spiega ciò che fa Il mostrino E nella terza C'è una sorta di rimedio Controli L'intervento Di questi mostrini Quindi che cosa si fa? Si cerca di consigliare Al bambino Di essere indipendente Quindi di crescere Attraverso Dei piccoli rimedi Gentili Perché è importante Mi è piaciuto L'approccio Diciamo Che ho cercato È stato quello Della gentilezza E dello scherzo Nei confronti Dei mostrini Quindi i mostrini Causano dei piccoli problemi Ma Il modo per mandarli via Non è mai Un conflitto aperto Si cerca sempre Una maniera simpatica Di mandare via i mostrini Quindi che sia Il mostrino Che ti slaccia Le scarpe Il mostrino Che ti fa venire Il singhiozzo Il mostrino Che ti annoda i capelli C'è sempre un modo Un po' scherzoso Per mandarlo via Insomma Non ci sono Conflitti veri e propri Questo Per consigliare Anche ai bambini Di guardare Un po' più in là Delle loro paure Anche Delle loro piccoli problemi La paura dei mostri La paura dei bambini È una cosa Da età prescolare Quindi 3-5 anni E In questo periodo Che probabilmente Siamo noi Che dobbiamo dirgli Ok Esplora un po' più in là Vedi che cosa succede Noi Non neghiamo La presenza Dei mostrini Ecco È importante Noi Giochiamo con i bambini Con le bambine A tutti i livelli Quindi anche Durante le presentazioni Li facciamo partecipi Diciamo Della nostra Dell'aver visto I mostrini E di Essersi trovati A contatto Con i mostrini Proprio per invogliarli Anche a A dirci Se li hanno visti Anche loro Spesso succede Alla fine Che ci dicono Di averli visti Passiamo Alla prossima slide E a questo punto Vi leggerei Proprio un estratto Dei mostrini Grazie Come vedete Questa è Nanna Stella Ed è una mostrina Che adesso Vado a leggervi Insieme alla luna Esce Nanna Stella E vola nella notte Fra stella e stella Con le grandi orecchie Cerca di sentire Storie Ninne e nanne Prima di dormire Nanna Stella Non vuole disturbare Svolazza Felice Di poter ascoltare Se i suoni Provengono Da una cameretta Lei entra Dalla finestra In tutta fretta Ma in una stanza Buia e scura La sua ombra Può fare paura Ti sembrerà Grossa e spaventosa Ma è soltanto Molto piccola E curiosa Quindi niente paura Non ti spaventare Per mandarla via Basterà riposare Finite le storie E cantate le canzoni Nanna Stella Cercherà altri suoni Quando la stanza Sarà silenziosa Lei se ne andrà Felice E sonnacchiosa Nanna Stella È una Mostrina Che ha Lo scopo Di far crescere I bambini Attraverso La paura Del buio Quindi Ciò che ci può essere Di spaventoso All'interno Di una camera buia Di una stanzetta buia Ci sono Già solo Nell'immagine Dei punti di forza Diciamo Che possiamo attribuire Nanna Stella Che sono anche però Quelli che potrebbero Spaventare I bambini E le bambine Quindi per esempio Le ali Che vedete Sono molto grandi E sono sia le ali Che poi quando c'è L'ombra Magari formano Un'ombra grande E possono spaventare Ma anche il modo Che lei ha per sentire Sono le sue orecchie Quindi C'è questa dicotomia Insomma Del fatto che La cosa che può spaventare È anche il suo punto Di forza E Nanna Stella Non farebbe male A una mosca Ovviamente Come nessuno Dei mostrini E È molto utile Secondo me A spiegare un po' Che l'abito Non fa il monaco E quindi Che al di là Di un aspetto Spaventoso Anche solo Immaginato In una stanza buia Si possa trovare Un mostro Molto carino Molto simpatico E semplicemente Ascoltare Anche il rimedio In questo caso Non c'è conflitto Perché basta Addormentarsi Quindi La risoluzione Alla Alla paura Che si può avere Di un'ombra È quella di Stare tranquilli Calmarsi E Nanna Stella Andrà via Cercando altre filastrocche Altre linee Passiamo Al prossimo Vi voglio leggere Un altro mostrino E questo è Pum 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 Il piccolo mostro Rumoroso È sempre in cerca Di un luogo silenzioso Con la sua voce Super potente Può fare scherzi A tutta la gente Non vuole essere Dispettoso È solo molto Molto chiassoso Un rumore forte Mentre sei a giocare All'improvviso Ti fa saltare Pum Pum Sa fare tutti i suoni Colpi Botti Anche tuoni Se ti vede un po' impaurito Ride allegro Scherzetto Riuscito Pum Pum Fa rumore Per scherzare Questo è il suo modo Di comunicare Quindi non piangere Nessuno spaventa Lui vuole solo Vederti contento Se ridi al suo scherzo Felice sarà E in cerca Di altri amici Si mette Pum Pum È uno Forse dei preferiti Dei bambini Anche perché Quando lo presento Di solito Ai bambini Alle bambine Lo urlo fortissimo E quindi Ci troviamo Diciamo Con i bambini O alle bambine A urlare Anche due Tre volte Pum 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 Proprio perché Il suo modo Di comunicare È questo Ecco Questa è la parte Importante Di Pum Pum Secondo me Pum Pum È interessante Intanto perché Può essere portato Anche a quei bambini Che magari hanno Qualche problema In più di sensibilità Di sensibilità A rumore O agli spaventi O qualche Piccola necessità Di sostegno In questi casi E poi È molto vicino A bambini Proprio perché Fa rumore E fa ridere Ci sono tanti bambini Che urlano Sbraitano Quindi Ci si ritrovano Insomma Mi piace l'idea Rimarcare L'idea Che Pum Pum È così È fatto così Quindi Lui Fa gli scherzi E tutto quanto Però Questo è il suo modo Di comunicare Quindi È come se volesse parlare Attraverso questo suo linguaggio Fatto di urla E di suoni strani Di colpi Di porti Quindi Insomma Ecco Si mostra anche A bambini Un'altra Particolarità Ve ne leggo un altro Andiamo avanti Con le slide Per favore Francesca Grazie E Passiamo A Sognellino Sognellino È un mostro Giocherellone Gli piace correre Dietro al pallone Salta Passa E corre via Finché è ben carica La sua batteria Ti segue In ogni gioco Che fai E non vorrebbe Fermarsi Mai Ma quando si stanca Non ha più energie Si stanno scaricando Le batterie Si mette in testa Il suo caldo berretto Per lui È il momento Di andare a letto Segui l'esempio Segui l'esempio di Sognellino E fai anche tu Un bel riposino Sulle tue ciglia Si stende il mostrino Per aiutarti A fare un Sognellino Col suo pelo A batuffoli Sulla pelle Ti sembrerà Di contare le pecorelle Una bella dormita Ti dà energia Per tornare a giocare Pronti Via Sognellino È molto divertente E Incarna un po' Un problema Che tutti i bambini Proprio o poi Si trovano ad affrontare E che alcuni Non mostrano affatto Non vogliono mostrare affatto Che è la stanchezza Il fatto di Essere A un certo punto Della giornata Magari Stanchi Si rifà un po' I bambini più piccoli Ovviamente Che devono fare il riposino Ancora E Con l'espediente Della batteria Che si scarica Che è molto Intorno Diciamo A ogni tempi Che corrono E le palpebre pesanti Su cui si poggia Il mostrino Per renderle pesanti I bambini Possono imparare Che è importante Riposarsi E cercare di Recuperare l'energia Recuperare le forze Sognellino Molto utile Nelle fasi Dell'addormentamento E C'ha questa Cezione Di far capire A bambini Che ogni tanto Calmarsi un attimo Anche solo calmarsi Anche senza dormire È utile Insomma Adesso vorrei Nella prossima slide Presentarvi Qualcun altro Dei mostrini Un po' più Velocemente E ve li faccio vedere Vi descrivo un attimo Chi sono Che cosa sono All'interno del libro Ci sono undici mostrini Quindi avete visti Tre e quattro Sette E come potete vedere Qui ci sono Cespichino Dentopino Vincent Van Spork E Zazeri Questi sono Altri mostrini Che hanno a che vedere Cespichino Con i lacci Delle scarpe Quindi Cespichino Cerca di slacciare Le scarpe E di fare Inciampare Come effetto Laterale Diciamo Però ovviamente Non è Non lo fa apposta Di rendere difficile Insomma Il camminare Le bambine Dentopino Si nasconde In mezzo ai denti E' sempre pronto A giocare al nascondino In mezzo ai denti Quindi anche qui Non c'è il conflitto Che anima Ma il lavarsi i denti Come abitudine Dentopino Si rifà Quell'abitudine Di lavarsi i denti Che anche vista Magari un po' In maniera Noniosa E' una cosa ripetitiva Una cosa che va fatta sempre Ecco Questo è importante I mostrini Non vengono mai scacciati Con il conflitto Perché Si Si ripeteranno Per sempre Per tutta la nostra vita Tutt'ora Noi abbiamo a che fare Con un dentopino O con uno Zazeri Che è il mostro Dei nodi nei capelli Perché Per tutta la vita Contineremo a lavarci i denti Per tutta la vita Contineremo a pettinarci i capelli Quindi Non ci può essere Conflitto Con creature Diciamo Creaturine Che hanno La residenza Nelle nostre case Nelle nostre vite E' per questo Che non Non è necessario Il conflitto E non piaceva La narrazione Del batterio Brutto in bucca Che per carità Può essere Giusto In certi contesti Ma in questo Assolutamente no Quindi Dentopino Si fa Semplicemente Lo si cerca Con lo spazzolino E si fa il solletico E lui ride Tantissimo E scappa Zazeri Che vive nel letto E annoda i capelli Viene spaventato Dai denti Delle Delle spazzole Dei pettini Vincent van Spork È quel mostrino Fatti di lettura E infatti di lettura Insomma Che del libro È molto ampio Perché A molti bambini E bambini Anche più piccoli Piacciono tanto Le immagini Quindi se le fanno leggere Spesso e volentieri Anche i bambini Di due anni Due anni e mezzo Insomma Ne ho visti tanti Ho sentito dire tanti Anche da amici E amiche D'accordo Andiamo all'ultima slide Voglio dire altre due cose Per concludere Semplicemente I mostrini Sono anche A livello Di dati Che potete utilizzare Diciamo Sono come Sono ottimi Come base Per laboratori E Molte attività Accessori Diciamo Perché Per esempio Mi rifaccio Direttamente A A scuola oltre Perché un'altra Formatrice di scuola oltre Carolina Bianchi Ha fatto Un laboratorio Di attività Ora lo dico male Magari Steam Quindi STEM Che sono le attività Interdisciplinari Che coinvolgono La scienza L'ingegneria L'arte Eccetera E Mi disse Mi faceva vedere le immagini Avevano fatto Un Sognellino Con la batteria Con un led Che si accendeva Premendo la guancia Del Del Mostrino Quindi Molto interessante Anche per questo Un'altra Insegnata Un'altra docente Che venne alla fiera Didacta A Firenze Mi disse Che avrebbe provato Ad utilizzare i mostrini Per L'insegnamento Dell'alfabeto Quindi Insomma Attraverso Le immagini E il fatto Che sono Undici mostrini Quindi qualcuno Avrà inventato Lì per lì Magari Molto bella Questa cosa Anche perché I bambini Spesso si prodicano A inventare I loro mostrini Quindi è molto interessante Condividerli con loro E poi ovviamente Quello che facciamo Noi diciamo Nelle presentazioni Che sono laboratori Di pittura Di colorazione Di maschere Anche E Sono I mostrini Sono molto colorati Molto appariscenti Piacciono molto Quindi anche Durante le presentazioni Noi di solito Ne facciamo scegliere Uno Come preferito Diciamo Diciamo Le ragazze Scegliete I vostri mostrini Preferite Poi alla fine Potete fare Una maschera Un disegno Del vostro mostrini A casa Quindi sono Interessanti In molti In molti modi Bene Io passerei All'ultimo slide Con i contatti E vi ringrazio Molto per l'attenzione E Non so se è già stato detto Però insomma Che i libri Federighi Possono essere Verrà ridetto dopo Insomma Io intanto ve lo dico Possono essere acquistati In libreria Anche tramite L'ordinazione Quindi se non li hanno Ve li ordinano Su Amazon Sul sito Federighi Editori Anche con la carta Del docente Grazie Perfetto Vieri Grazie mille E per concludere Vorrei la filastrocca Di Cristina All'interno di Parole morbide Parole ruvide Il nostro albo Dedicato alle emozioni E sono due filastroche Per due fasce D'età diverse Filastroche Scaccia rabbia E Cristina Non ti sentiamo Ce ne sono due Una è molto breve Per i bambini Più piccoli E un'altra E invece È un pochettino Più complessa Come dicevo Rimani Aiuta i bambini A capire Cosa succede Al proprio corpo Quando Ci si arrabbia Quindi quella più breve Si intitola Via via Brutta rabbia Filastrocca Scaccia rabbia Via via Brutta rabbia Scacciala via 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 Brutta tu Brutta rabbia Non ci sei più Via 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 Brutta rabbia Vattene via Questa la possiamo Anche animare Con il corpo Quindi facendo E ripetendo Con i bambini Alcune frasi E muovendosi Con il corpo L'altra invece È appunto Che vi dicevo Che racconta Cosa ci succede Se mi arrabbio È il titolo Se mi arrabbio Non ti guardo Stringo i pugni E non ti parlo E se tu Non dici niente Io non sono Indifferente Sono solo Un po' arrabbiato Vorrei essere Consolato In mezzo al mare Una barchetta E la tempesta Arriva in fretta Poi la rabbia Cresce dentro Sale Arriva In un momento E la voce Mi ha diversa Ma dov'è Dove l'ho persa Poi mi arriva Una carezza E la tua voce Mi attraversa Così la rabbia Scende piano Se ne va Dalla mia mano La tua mano Nella mia Brutta rabbia Vattene via Ecco Anche Nella modalità Di lettura Credo Che L'alternanza Dei ritmi Narrativi Quindi Dei ritmi Emotivi È molto importante E un testo E un testo Che credo Insomma Sia importante Io Lo guardo Anche i testi Non solamente i miei Anche quelli di altri Autori Bravi Io leggo Dei loro testi Ai bambini E mi rendo conto Che quando c'è Nelle filastrocche Nelle storie Questa possibilità Data dalla Conteggiatura Data Dall'estensione Del testo Dalle immagini Di leggerla Con ritmi Emotivi Diversi È davvero Molto più interessante Per il bambino E quindi La sua attenzione È molto Concentrata Sulla storia E non importa Essere Teatrali Anche nella lettura Alta voce E attirare Poi su di sé No Lo sguardo Quanto Leggere la storia Secondo questi ritmi Emotivi Diversi E narrativi Così che il bambino Possa davvero Vivere la storia E farla Diciamo Lavorare Dentro di lui Concluderei Con una Poi si lascia Lo spazio Insomma Anche alle domande Concluderei Dicendo anche questo Nei nostri incontri Con l'autore Visto che ieri Insomma Parlava Di che cosa Anche si fa Durante gli incontri Per quello che Invece Mi riguarda Con questi testi Con Ora non posso Si possono fare Anche dei progetti Molto interessanti Con i genitori Io faccio Di solito Anche Di un lavoro Con i genitori E quindi Parliamo Ci incontriamo Anche con loro Parliamo Dell'importanza Della lettura Condivisa in famiglia Della lettura D'alta voce E quindi Il progetto Può Non solamente Coinvolgere i bambini Direttamente Ma anche Parlare Direttamente Anche ai genitori Sull'importanza Della lettura Mentre Con parole morbide Parole rubide Io ho realizzato Con un artista Un libro Tattile E quindi Un libro Che si apre Una pagina Diciamo Per volta E in ogni pagina È rappresentato Il libro E quindi Come procede La storia E come Procedono Le parole Quali sono Le parole Importanti Che ti senti E servono Per accarezzare Quali sono Le parole Punigenti Per ferire O far male Quali sono Le parole Soffici Quelle che fanno Sognare Oppure Quelle Ruvide E dure Che fanno Arrabbiare Quindi C'è tutta Una carrellata Poi ovviamente Il libro Diciamo Continua E anche Le parole Baule Che sono Quelli Dei nostri Ricordi O le parole Cerotto Che sono Quelle Appunto Dove Possiamo Riparare A volte Le cose Che diciamo Sproposito Per gli altri Quando li feriamo Quando li facciamo Male Quindi In un modo Diciamo Molto libero Per i bambini Spero di Eserci riuscita Questo poi Me lo dicono Non me lo direte Voi Quando Avrete Visto Meglio Libri Però Qui Questi percorsi Tattili Possono essere Molto belli Perché io Apro Ogni pagina Poi Monto Tutto Su Una parete E quindi Viene fuori Una parete Di emozioni Che i bambini Anche quelli Piccolissimi Possono toccare Ma si divertono Anche grandi Vi garantisco Possono toccare In altri casi Questo libro È stato utilizzato Anche con i ragazzi Più grandi Persino con gli adolescenti Proprio per lavorare Sulle parole Quindi sul potere Delle parole Quindi in alcuni Centri giovani Con Dei progetti Unicef Abbiamo portato Questo libro E i ragazzi Si sono raccontati Come anche questo E hanno raccontato I loro posti speciali Quelli del cuore Quindi Insomma Anche intorno a loro Ti amano Grazie Grazie Per questo Intervento E E mi riaggancio Perché come Chi ci conosce Da Da tanti anni Ci segue Capisce Anche Questa Diciamo Questa rete Di collaborazioni Che si è andata A testere Durante Questi Insomma Anni Anche difficili Un po' Passati insieme E quindi ci ha dato Insomma Modo di conoscerci E anche di Supportarci Nel lavoro Reciproco E nella bellezza Di queste idee No Cristina Bartoli Ha parlato Di tanti progetti E E anche Vieri Pellegrini Ha parlato Proprio Di un'altra formatrice Carolina Bianchi Che ha utilizzato Gli albi Ecco Questa è un po' La sinergia Che abbiamo Voluto creare In questi In questi anni Con gli albi Della collana Silenziosamente Di Federighi Editori Abbiamo realizzato Proprio delle progettualità Anche con le scuole Attraverso Un primo progetto Che voi trovate Nella nostra sezione Progettuale Oltre il libro Per crescere E promuovere La lettura Per stimolare Per stimolare La crescita Di competenze Di vita Abbiamo lavorato Proprio con i bambini E con i formatori In quel caso Era Michele Barbuzzi E Lidia Liboria Pantaleo Proprio Sulle attività Realizzare attività STEM Con gli albi Illustrati E proprio Una lezione Un incontro Era dedicato Alla costruzione Proprio quindi Capacità digitali Tecniche Dei bambini Apprendimento Tecnico Però di un mostrino Che poi appunto Permetteva Un laboratorio Sulle emozioni Ecco Ci tenevo Anche A suggerirvi Queste possibilità Perché le possibilità Sono veramente Tante Tantissime Momento Domande Quindi Vado a Scorrere Un po' Parlo anche Per chi ci segue Su Facebook Non Non vi dimentico Lo dico sempre Quindi Per chi vuole Può alzare La mano Parlo di chi E su Zoom Ovviamente C'è la funzione Apposta E possiamo Darvi parola Nel frattempo Vado a leggere Qualche commento Così magari Intanto Arrivano le domande Letizia scrive Credo che Queste filastrocche Possano essere utili Per gestire La rabbia Dei grandi Concentrandosi Sulla memoria E sulla ripetizione Della filastrocca In modo da Abbandonarsi Ad una sorta Di mantra Che ci calma Poi Vedo Gianfranco Un suggerimento Vero Anche per noi Adulti Eh sì I famosi Dieci secondi Che potrebbero aiutare Non solo contare Ma aiutarci A far passare Il momento Gianfranco scrive Educare L'autocontrollo Molto bello L'amicizia Il primo posto Ci sono tante Ci sono tante Queste Queste storie Poi Questi albi Eh Hanno anche Sempre Il doppio Destinatario No? Perché poi Alla fine Chi è che Compra un albo Illustrato a un bambino Non è il bambino È un genitore Quindi anche Che legge No? E quindi Nel momento Della lettura C'è un doppio messaggio Uno è quello Per il bambino Per aiutarlo E supportarlo E l'altro È per l'adulto Per proprio Per controllarla Anche lui La sua rabbia O davanti Alla rabbia Del bambino Cioè trovare Delle possibilità Delle Insomma Delle Delle modalità Anche di relazione Più aperte E rispettose Anche Della Libertà Del bambino E dei suoi bisogni E anche desideri Perché a volte Si parla tanto Di bisogni Ma bisognerebbe Parlare anche Di desideri Dei bambini In questo L'albora Non posso È molto forte Come messaggio È veramente Molto forte Sì Sì Questo infatti Il titolo Che è probabilmente Un titolo diverso Non so Un mi leggi una storia Sarebbe stato Più comprensibile A livello di contenuto Forse avrebbe Anche colpito di più Però l'idea Era proprio Partire da Cosa il bambino Si sente dire Quindi scrivere Per lui Perché poi Diventa poi Un tormentone Nel senso Quando poi L'ha letto Il genitore Quando ti dice Ora non posso Non te lo potrà più dire Perché si riderà E ci sarà Un sorriso complice Che aiuterà A superare Diciamo Questa Questo aspetto È un'arma A doppio taglio Per il genitore Che acquista L'alba È vero Giusto Sto scorrendo In dito i commenti Parlando Dei mostrini Bellissimo Tornare bambini Grazie a questi libri Un tuffo Nell'infanzia A me ha conquistato Vincent Valsporca Guarda Conquistata Conquistata Davvero Vincent Valsporca Rimane uno Dei Dei più acclamati Diciamo Insieme a Dentopino Di solito Dentopino E Vincent Valsporca Sono I preferiti Io preferisco Otappu Io sono Tutta la vita Per Otappu Non ne abbiamo parlato Ma vi consiglio Di Leggere Il libro Potete trovare Ed è anche lì Un mostrino Che parla molto Ai genitori Perché è sempre Molto stanco Lavora un sacco E appena sente Sbadigliare Dorme Quindi insomma Il messaggio Lì è forte Allora È comparsa una mano Una domanda Quindi Do la parola Ad Angela Frattini Prego Può attivare Il microfono Per la domanda Ci sente Angela Adesso si riesco a parlare Non riuscivo Buonasera Allora Io sono insegnante Di scuola primaria E amo tantissimo La lettura Infatti Partecipo A dei gruppi Di lettura Ad alta voce Che è una libreria Della mia città Organizza Però riscontro Un problema Molto grande Nel senso che Secondo me I genitori Non leggono I bambini E volevo chiedere Come si può fare A sensibilizzare I genitori Alla lettura Ad alta voce E ho riscontrato Per esempio Che i miei bambini Di prima Non conoscono Le favole Le fiabe Tradizionali E quindi C'è una mancanza Di Conoscenza Attraverso La lettura Per me È una cosa Molto Molto Grave Insomma Anche perché Io adoro Appunto La lettura Ma la mia domanda Era proprio questa Come facciamo A sensibilizzare I genitori Dell'importanza Della lettura Grazie Posso rispondere Io? Certo Allora Sì Ha pienamente ragione Angela Ha pienamente ragione E il problema È proprio questo Che i genitori Non conoscono Le cose Di cui Privano I loro Figli Una Poi Non conoscono Come fare Non dare Scusami Cristina Scusatemi Sera Spento Dicevo I genitori I genitori È vero Non conoscono Il valore Spesso Io ho scritto Un libro Che si chiama La pedagogia narrativa scuola Dove Dove ho dato Tutta una serie Di spunti Anche per gli insegnanti Per fare Delle attività Anche di coinvolgimento Anche dei genitori Perché Il coinvolgimento Dei genitori È fondamentale Soprattutto Nei primi Mille giorni Di vita Se conoscete Il programma Nati per leggere Per esempio Questo è utilissimo Fino ai sei anni Proprio Per promuovere La lettura Precoce Perché È nei primi anni Che si forma Tutta la parte Diciamo anche Neuronale Che è il supporto A quello che sono Le emergent Literacy Quindi La costruzione Di quelle capacità Di prealfabetizzazione Che si vanno a formare Proprio grazie Alla lettura Alle storie C'è una sottovalutazione Della lettura Infatti Io parlo Di pedagogia narrativa Non di pedagogia Della lettura Perché Non è solo Una questione Di decodifica No Della cosa Lei e E voi Insomma Tanti di voi Hanno a che fare Con i libri Tutti i giorni Sono molto lettrici Leggano le storie Bambini Vedono Quanto i bambini Interagiscono Con le storie E quindi Interagiscono Con i loro Diciamo Le loro ricerche Di senso No Le loro Emozioni Con i loro Interessi Fanno dei confronti Con la loro realtà Questi sono Dei processi Cognitivi Profondi Molto Molto interessanti Per cui Il consiglio Che mi sento Di dire È di Attivare Nelle vostre scuole Dei progetti Che tengono conto Di questa Dimensione Genitoriale Che quindi Creare esperienza Per i genitori Cioè creare Delle situazioni Di contesto In cui si Involgono Anche i genitori E si legge Ai loro bambini Insieme E si fa E si fa vedere Come anche Si legge Una storia Perché Il fatto di tenere Il bambino in collo Di tenerlo Davanti a loro Di usarla Per esempio Come Lettura Della sera Quindi Una ritualità Chiedere Di fare Questa ritualità All'inizio Il genitore Si Trova difficoltà Però poi Vede una reazione Molto positiva Del figlio Dicevo Che queste ricerche Hanno mostrato Che diminuisce L'aggressività Dei genitori E dei bambini Ma Questi benefici Sono soprattutto Per i genitori Che sono Con più difficoltà Di tipo sociale No? È in quelle famiglie Che abbiamo La lontananza Dalla lettura Quindi Per esempio La connessione Con la biblioteca Diventa fondamentale Con la biblioteca Comunale Chiedete ai genitori Di portare i bambini In biblioteca Chiedete ai genitori Di scegliere un libro Da portare Alla classe Che poi verrà letto Alla classe Coinvolgete Nati per leggere Coinvolgete I volontari Di Nati per leggere Coinvolgete Le scuole Coinfate dei corsi Con pedagogisti Così narrativi Che possano coinvolgere I vostri genitori E motivarli Alla lettura Perché poi Quando dopo Si rendono conto Del potere Della lettura Sullo sviluppo Dei loro bambini Allora Cominciano A venire in biblioteca Cominciano a comprare libri Un libro È un regalo Da fare Al pari di più Degli altri giorni Perché a volte I genitori spendono Tanti soldi Per giocattoli Quando un libro Regalare un libro È veramente Una forma Di affetto Di amore Per il bambino Perché Aiuta Nella relazione Posso aggiungere C'è il prestito A volte Quindi Anche attraverso Tantissimi 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 contenuti Tantissimi messaggi Anche attraverso Il libro E la lettura Lo stiamo cercando Di fare Nel nostro piccolo Con delle progettualità In collaborazione Con le scuole E facendo rete Proprio come diceva Cristina Bartoli Col territorio Biblioteche Comuni Aderendo Convolgendo le famiglie Aderendo A reti Che promuovano Questo messaggio Questi obiettivi Perché siamo Una comunità Educante Dove ognuno Ha il suo spazio Ha il suo ruolo Ha la sua importanza Perché da soli È sempre molto difficile Fare qualsiasi cosa E quindi Anche in questo Trovate Se qualcuno di voi Lancio anche un appello Dato che insomma Si è parlato Tanto di collaborazioni Posse intenzionato Intraprendere Queste strade Queste progettualità Ecco Noi ci siamo Con la nostra rete Di conoscenze Con la nostra supporto Di nostri formatori Nei nostri contatti Molto molto Volentieri Perché sono Insomma E insomma Anche un po' La nostra La nostra mission Allora Riprendo I Messaggi C'è qualcuno Che diceva Che effettivamente È molto bello Come genitore Leggere con i figli Rimpiangendo un po' Il tempo Quando lo faceva insieme Con la bambina piccola Purtroppo La tecnologia Riduce i tempi Di relazione E questo è un vero Peccato Perché attraverso La lettura Passa l'affettività E la sicurezza Guardo anche Su Facebook Non vedo Messaggi Con domande Nel frattempo Beh Comunicazione e servizio Ho messo il link Per l'attestato Lo ripubbico Nella chat Anche di Zoom Quindi Se qualcuno L'ha perso L'ho rimesso È bello Leggere i libri Anche per favorire La socializzazione Al nido Quindi andiamo Proprio Sui piccolissimi Sto scorrendo Vedere Se ci sono Altre Domande Ecco C'è un altro Commento Di Andreina I bambini Hanno tanta voglia Di parlare Condividere Purtroppo Noi adulti Non capiamo Sempre L'importanza Di ascoltarli E l'importanza De leggere Loro le storie Anche quando I bambini Sanno già farlo Da soli Ecco Se posso Questo intervento Agganciarmi Per dire Quindi una Una cosa Molto Significativa Secondo me Rispetto All'educazione Alla lettura Di cose Che si possono Fare Verso I genitori Mostrare Ai genitori Come L'albo Illustrato Quindi La lettura Della storia Diventa Un momento Non solamente Di piacere Insieme Ma anche Per ascoltare I propri Bambini Perché Se Io Noi abbiamo Fatto Una ricerca Siena Con circa 400 bambini Delle scuole Primarie Mostrando loro Degli albi Illustrati Delle immagini Quindi Sull'empatia Sulle emozioni E abbiamo Fatto proprio Quest'osservazione Qui In che modo Bambini Interagiscono Durante la lettura Di una storia Perché c'è Qualcuno Che si alza Magari Alza la mano E nota La figura Per esempio Di un padre Assente Cioè ci dice In questa figura Manca il padre Oppure Nota Una tendina Oppure Vede la cornicina Di un oggetto Che lo colpisce In modo particolare Oppure Attribuisce Un significato A una certa Emozione A una certa Espressione Che lui Decodifica Così magari Un altro Invece ci vede Un'altra cosa Quindi Il fatto che Ogni bambino Ci vede Cose diverse E quindi Interpreta È perché Attiva Quelle connessioni Di cui si diceva Prima Quindi allora Io l'albo Illustrato Lo posso usare Questo anche Per l'insegnante Per osservare La reazione Dei miei bambini Perché così Mi rendo conto Che cosa c'è Che colpisce Di più Cosa E quali sono Queste ricerche Di senso Che i bambini Tentano in ogni momento Di fare Di raccontarci Perché c'è proprio Una costruzione Del sé Che si attiva Nel momento In cui la storia Degli altri Interagisce Con la mia storia Quindi Questa attenzione È davvero Importante Mostrarla Ai genitori Proprio Fare un incontro Con loro E anticipargli Questa cosa E poi Fargli vedere Cosa succede E quindi A quel punto Si attiva Un'attenzione Del genitore Che comincia A capire Che non è importante Leggere tutta la storia Se il bambino Non ha voglia Di leggerla Quella sera Che non è importante Chiede Gli hai capito Di cosa parla La storia Ma vedere Dove va Il difino Del bambino Perché gli gira La pagina Perché va A ricercare Una cosa Che magari Gli aveva letto Tanto tempo fa E gli è ritornata A mente Mentre stava Facendo un'altra cosa Quindi Rimettemi Quella frase Dicendo Ma per te Ma perché Ci vedi qualcosa Perché ti è successo L'altro giorno Così Anche quando Siamo stati insieme Al mare Ti è successo Anche a te Che cosa Ti è successo Racconta Racconta Ecco Narrare È pensare Quindi l'ascolto Del genitore Si fa anche Attraverso le storie E gli albi Illustrati Grazie Davvero Scusate Mi ero fermata A leggere Un po' I commenti Perché stanno Ovviamente Scatorendo Riflessioni E Tra chi Appunto Anche un prestito Hanno attivato I prestiti scolastici Appunto Nella sezione Dell'infanzia Chiedendo anche Collaborazione Con i genitori Che sono stati Diciamo Trascinati Questo progetto Che poi appunto Ha avuto successo C'è chi scrive Appunto L'importanza Anche Dei libri Anche Della lettura Anche per bambini Che non sanno Parlare C'è chi E' qui Proprio perché Crede Fondamentalmente In questa Trasmissione Di valori E contenuti Attraverso La lettura E C'è appunto Chi scrive Che i bambini Comunque Amano leggere Anche per gli adulti Per i nonni Forse un pochino Meno per i genitori Però dipende Come risponde il genitore Forse No Torniamo sempre un po' All'albero Lo leggono Per chi ascolta Probabilmente No Forse un po' Certo E E Poi giustamente Anche come insegnante C'è chi legge Con regolarità Un libro in classe Quindi E anche Lo fa leggere agli alunni Che a volte lo sostituiscono Quindi Ottimo Tutte belle Tutte belle storie Quindi Siamo un po' Arrivati al dunque Come sempre Insomma Queste riflessioni Queste domande Insomma Sono sempre molto Profonde Ci riportano Anche un po' A quello A quello che è un po' Il nostro obiettivo Dove vogliamo Dove vogliamo arrivare Ognuno Col proprio contributo Nella società di oggi E per la propria realtà Io ringrazio Come sempre Per questa presenza Sia Claudia Centi Che gli autori Cristina Bartoli E Vieri Pellegrini Per la loro presenza E per il loro racconto È bello anche È molto bello Sempre Sentire raccontato Un libro Un albo Direttamente Dall'autore Insomma Ha giustamente E una marcia in più E siamo E siamo qui per questo Lascio un ultimo saluto Se vuole Claudia Centi E io auguro Ovviamente Un buon proseguimento Poi a tutti voi Grazie Francesca Siano felici E continuano a seguire Anche noi Insomma I nostri libri Lo ha detto Vieri Lo ripeto anch'io Li trovate Sia in libreria Sia sul nostro sito www.federieeditori.it Con la carta del docente È possibile acquistare Su Amazon Anche nei bookshop Dei musei Per cui ci trovate Dappertutto Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Di nuovo Grazie a tutti A tutte Arrivederci Grazie a tutti